New da MyBestLife.com Gonorrea, anche qui il superbatterio resistente agli antibiotici. Recentemente è stato isolato un ceppo di Neisseria gonorrea, H041, resistente al cetriaxone, una ciclostorina d'ampio spettro. Gli scienziati hanno realizzato una dettagliata caratterizzazione dell'H041 da un profilo fenotipico e genetico per confermare la scoperta, esaminare e chiarire i meccanismi della sua resistenza agli antimicrobici. Tuttavia, il 13-2-2011, un comunicato della Northwestern University scriveva La gonorrea acquisisce un pezzo di DNA umano e la prima evidenza di trasferimento genetico da un ospite umano ad un batterio patogeno. ed offre una nuova prospettiva dell'evoluzione della malattia. Non si era mai registrato nella storia un trasferimento di DNA da umano a batterio. Fino ad ora. I ricercatori della Northwestern Medicine hanno trovato evidenza di un frammento di DNA umano nel genoma di un batterio. In questo caso, il Neisseria gonorrhoeae, il batterio che causa la gonorrea. Ulteriori approfondimenti hanno mostrato che il trasferimento genetico sembra essere un evento evolutivo recente. La scoperta apre una finestra sull'evoluzione, sull'abilità e l'elasticità della gonorrea nell'adattarsi continuamente per sopravvivere nell'ospite umano. La gonorrea che è trasmessa attraverso il contatto sessuale è una delle malattie più antiche di cui ci si attraccia ed una delle poche esclusivamente umane. Secondo Hank Seifer, professore di microbiologia e immunologia alla Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Tutto ciò ha un significato evolutivo perché mostra che si possono fare grandi passi nell'evoluzione quando si è capace di acquisire questi pezzi di DNA. Il batterio sta prendendo una sequenza genetica proprio dall'organismo che sta infettando. Questo fatto può avere implicazioni tanto grandi quanto grande sarà la capacità del batterio di adattarsi a chi lo ospita. È noto che il trasferimento genetico viene tra batteri e anche tra batteri e cellule di lieviti, ma il passaggio di DNA da DNA umano a batterio è un salto veramente grande, sostiene Mark Anderson, un postdoctoral fellow in microbiology e autore responsabile. Questo batterio deve superare molti ostacoli per acquisire questa sequenza di DNA. L'articolo sarà pubblicato il 14.02.2011 sul giornale M.Bio. La scoperta suggerisce che la capacità da parte della gonorrea di acquisire DNA dall'ospite umano possa renderla capace di replicare se stessa in differenti cetti. Ma se questo particolare evento abbia fornito un reale vantaggio al batterio della gonorrea, non è ancora noto, afferma Saffer. Si stima che ogni anno 700.000 persone solo negli Stati Uniti e 50 milioni nel mondo si infettino con la gonorrea. La malattia si cura con gli antibiotici, ma attualmente ne viene raccontato uno solo per il trattamento, perché il batterio ha sviluppato resistenza nei confronti di quelli utilizzati negli ultimi 40 anni. La gonorrea è una patologia particolarmente seria per le donne, se non curata può portare a una dolorosa infiammazione pellica che può a sua volta causare sterilità e gravidante estroterine. In rari casi, l'infezione migra dal tratto genitale al circolo sanguigno, causando artrite ed endocardite. Un'antica malattia, che sembra la gonorrea, è descritta nella Bibbia, spiega Saffer, che ha studiato la patologia per 20 anni. La maggior parte della ricerca si concentra su come il batterio elude il sistema immunitario umano, modificando il suo aspetto e modulando l'azione dei globuli bianchi. Anderson ha anche esaminato il batterio che causa la meningite, il Neisseria meningitis. Meningitidis, che è strettamente correlato a livello genetico con il batterio della gonorrea. Non c'erano segni di frammenti umani e questo suggerisce che il trasferimento genetico sia un evento evolutivo recente. Conclude Saffer. Il prossimo passo sarà quello di capire cosa fa questo pezzo di DNA. Torniamo alla notizia di oggi, quella della scoperta di ceppi di gonorrea che hanno mostrato resistenza al cetriaxone. La ricerca è di altri studiosi che concludono preoccupandosi che la Neisseria gonorrea possa diventare presto un superbatterio che non risponde più ai trattamenti conosciuti. I numeri delle infezioni da superbatteri in tutto il mondo occidentale sono più che preoccupanti e su questo sito ci siamo già occupati del problema come potete vedere nei link in fondo pagina. Trovate ulteriori approfondimenti nella versione inglese di questa pagina. Per saperne di più su www.mybestlife.com Grazie Grazie a tutti